Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial continua il corso introduttivo ad adobe premiere pro quest'oggi parleremo dei sottotitoli o meglio come esportare ed importare i sottotitoli nello scorso tutorial abbiamo visto come creare i sottotitoli in premiere quest'oggi vedremo come importarli ed esportarli come sempre vi ricordo www.fabioambrosi.it sito dove troverete gli articoli di questi tutorial oltre all'indice con tutti gli argomenti trattati ormai il corso dura da un annetto e si sta avvicinando la sua conclusione tra qualche lezione parleremo anche dell'export argomento so essere molto richiesto iscrivetevi a questo canale youtube tra qualche mese faremo anche una sessione live per permettere a tutti di fare domande in tempo reale per chiarire dubbi e perplessità e se vi fa piacere cercatemi su facebook la pagina da cliccare sempre quella fabio ambrosi cercatemi e mettete un click un like via torniamo a noi torniamo a premiere nello scorso tutorial abbiamo visto come inserire i sottotitoli abbiamo il jap è un gruppo di persone appassionate di paranormale abbiamo sottotitolato fino a qui e ci concentreremo sull'export ipotizziamo di voler condividere questo sottotitolo con un nostro collaboratore o con un nostro collega o con qualcuno che magari deve tradurli innanzitutto innanzitutto diamo uno sguardo al file anzi no prima di tutto esportiamo sì chiaramente esportiamo il sottotitolo per esportare dobbiamo selezionare il sottotitolo nel pannello progetto ok andare sulla alla voce file esporta scegliere la voce sottotitoli e sostanzialmente scegliere il formato di export che vogliamo che vogliamo utilizzare ho visto che abbiamo lavorato con i sottotitoli aperti il mio consiglio di utilizzare l'SRT che è il formato più diffuso e più non più diffuso forse il più utilizzato dalle persone ok quando vedete un film in lingua originale cercate i sottotitoli spesso sono in formato SRT ok è una tipologia di sottotitoli abbastanza diffusa e semplici da editare noi selezioniamo SRT clicchiamo ok scegliamo la posizione del file che andremo a generare in questo caso a benissimo tutorial export lascio il nome sottotitoli così com'è e clicco su salva abbiamo esportato il nostro sottotitolo diamo uno sguardo a quello che abbiamo esportato se apriamo il sottotitolo creato con un normalissimo editor di testo vedremo che alla fine di testo si tratta ok c'è il time code del singolo sottotitolo il numero innanzitutto del cronologico del sottotitolo il time code che ci dice quando inizia e quando finisce e poi il testo che finisce insomma nel nostro nel nostro sottotitolo e così via questi sottotitoli possono essere centinaia se non migliaia immaginate un film è composto da migliaia e migliaia di righe in in questo formato abbiamo esportato il nostro sottotitolo come si fa il procedimento inverso ovvero come si importa un sottotitolo bene molto molto semplice in realtà cancelliamo il sottotitolo creato qui in timeline e nel progetto premier così che possiamo reimportarlo per importare un sottotitolo dobbiamo fare come facciamo per qualunque altro materiale multimediale in premier quindi abbiamo visto nella lezione inerente all'import come si fa doppio clicca nel pannello progetto oppure contro lì oppure file importa insomma scegliete voi il metodo che preferite doppio clicca nel mio caso navigo nella cartella in cui ho esportato il sottotitolo seleziono il sottotitolo che ho esportato poc'anzi doppio clicca ed ecco che il sottotitolo è nuovamente dentro a premier lo riporto in timeline lo riposiziono a sync almeno all'inizio il GAP è un gruppo il GAP è un gruppo ed ecco qui che il sottotitolo è stato reimportato attenzione perché quando importate e reimportate i sottotitoli probabilmente perderete la formattazione quindi per riformattare il sottotitolo o i sottotitoli selezionateli tutti quanti quindi tutti i sottotitoli presenti nel pannello dei sottotitoli date la formattazione che volete quindi in questo caso ingrandiamo un pochettino il font posizioniamolo al centro cambiamo il background dando uno 0% ed ecco che il gioco è fatto è un pochettino più grande ok potete anche dare un bold per rendere tutto leggermente più visibile e abbiamo reimportato il sottotitolo che avevamo generato poco il GAP è un gruppo di persone appassionate di paranormale e così via è semplice fare i sottotitoli è molto noioso questo sicuramente c'è un modo per farli in automatico sì esistono dei software che ascoltano quello che viene detto e traducono in testo il parlato YouTube per esempio ha ottime funzioni per generare automaticamente i sottotitoli quindi un buon modo di lavorare può essere far fare il grande lavoro a YouTube che vi trascrive tutto il parlato poi voi andrete a modificare perché sicuramente ci saranno errori e potete poi importare in Adobe Premiere Pro quando parleremo dell'export vedremo come esportare un video che ha dei sottotitoli perché bisogna abilitare alcune funzioni quando si farà l'export ma ne parleremo nelle prossime lezioni per il momento mi fermo vi ringrazio grazie per i bei commenti che lasciate a questi video tutorial www.fabioambrosi.it sito dove troverete l'indice con tutti gli argomenti iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere anche i prossimi video tutorial se vi fa piacere cercatemi su Facebook la pagina da cliccare come sempre è Fabio Ambrosi nella prossima lezione inizieremo a parlare dell'export argomento so essere molto 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 richiesto quindi mi raccomando restate sintonizzati e ci aggiorniamo grazie e buon proseguimento ciao